In Lombardia facciamo parte appunto di questa associazione che ha organizzato questo evento, l'associazione Cascine Milano, di cui abbiamo il presidente Umberto Zandrini che farà una breve premessa giusto per farci conoscere, con i tre rappresentanti del comune di Milano, Laura Garimberti, Enrico Mortola, perché io confondo sempre, e Luca Ressarco. Benvenuti, lasceremo poi a loro la parte introduttiva di precisare su un evento che il comune di Milano ha attivato qualche mese fa, una manifestazione di interesse su un gruppo di cascine di proprietà per vedere che cosa si può fare realizzare in una situazione di contingenza economica per la pubblica amministrazione di difficoltà, ma di una fortissima richiesta da parte della cittadinanza di recupero e di riutilizzo. Tant'è che rispetto a quello che poteva essere un numero di adesioni c'è stata sicuramente una maggiore risposta della cittadinanza. Io lascerei lo spazio ovviamente per questo dibattito, una prima presentazione per un dibattito e poi ovviamente il pubblico successivamente potrà intervenire. Grazie dell'intervento e lascio la parola a Umberto Zandrini.